ciao a tutti è arrivato dopo la civetta e duice di henry finalmente è arrivato fanny la fenice di silente ancora sigillata devo ancora aprirla ancora vedere com'è ma le dimensioni dovrebbero essere uguale a quelle della fenice della civetta anche questo sistema per muovere le ali per fare simulare il volo anche questa ha il personaggio con la riproduzione sempre in questo caso della fenice di lacerari con la civetta quindi questo caso c'è silente con la fenice piccolina da lanciare sicuramente qua è così carina quanto è veramente carina veramente e niente adesso poi immagino che siano quattro bustine come quell'altro senza che adesso sto aprire non sono tantissimi pezzi una volta lo scrivevano sopra non lo scrivono più comunque vabbè un'ora con calma la metti su molto bella della scatola molto bella ripeto civetta duice che francamente non ero tanto sicuro di prenderla però trovata all'ipercopio in una buona offerta l'ho presa ma non ero tanto sicuro perché non è che mi interessava più di tanto perché ovviamente le dimensioni non sono in scala con i personaggini con le altre figure con altre cose che ho costruito però poi ho detto massire la prendo la metto vicino e poi una volta che l'ho costruita mi piace tanto quindi credo che mi piacerà anche molto questa va bene adesso vi faccio vedere come diventa ciao ragazzi ecco qua fanni la fenice l'ho appena finita dimensioni identiche a alla civetta di harry poter adduice come lei c'è questo sistema che se muovi dalla lontano se lo vedete meglio simula che sta volando molto molto bella i colori vedete qua c'è silente sempre con fanni però in versione più piccola questa statuetta si può anche sganciare la potete vedere dove volete è lui un personaggio quindi sono identica un personaggio ci fate un po quello che volete volendo lo potete tranquillamente utilizzare insieme agli altri i colori sono molto 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 belli sono quasi tutti rossi arancioni giallo e qualche coloro marroncino insomma insomma vi faccio vedere sopra veramente veramente bella la differenza che lei tiene adesso abbassiamo la zampetta lei tiene una pergamena invece che una lettera qua ci sono la cresta si può alzare si può abbassare anche questi e niente è molto 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 carina e non so cos'altro aggiungere ecco noretta noretta la costruite non è ci mettete tanto sono quattro buste pochi pezzi e adesso il numero dei pezzi non lo so però insomma veramente veramente carina poi questa cosa della simulazione di volo è veramente veramente bella ecco l'unica parte che che dovete piegare a mano è questa parte qua li mettete un po come volete adesso vi faccio vedere vicino ed uice io vi consiglio come ho detto trovate un buon prezzo prendete le tutte e due per sono veramente belle io all'inizio non li volevo prendere perché onestamente ho detto di dimensioni non sono in scala con gli omini con i personaggi con niente sono enormi invece però poi trovandola prendendo il primo in offerta cioè duice mi è piaciuto così tanto che ho deciso di prendere anche fanni la testa si può muovere il collo insomma e e a me piacciono ecco piacciono veramente tanto non so cos'altro aggiungere se avete domande fatemele pure e io appena posso vi rispondo se il video vi è piaciuto mettete un like per favore così vi fate capire che questi video non sono sprecati ma qualcuno possono anche interessare e se potete seguitemi come vedete dal mio canale io parlo di lego parlo di altre versioni di mattoncini parlo di modellismo parlo un po' di elettronica un po' di tutto questi argomenti comunque sono questi tre qui quindi qualcosa di interessante a volte esce fuori vi ringrazio per il tempo che vi ho fatto per spero insomma che vi possa essere stato d'aiuto in realtà non ne vedo tanto di video in italiano su queste cose li vede in inglese li vede in altre lingue ma non non in italiano eppure di eppure di insomma di gente che ne compra ce ne tante perché vedo anche su i siti di acquisti online che vanno a ruba tante cose però si vede che un video non sono non interessa neanche non so non la gente non piace fare video su queste cose io li faccio ma la mano che ne compro li faccio anche perché così uno si può fare un'idea se ne vale la pena non ne vale la pena va bene ciao ragazzi alla prossima